Siamo già, oggi sbustiamo, sbustiamo, perfetto, nessuno l'ha visto, va a fare lo stesso, dovevamo farlo, dovevamo, dovevamo, allora, oggi si sbusta, si sbusta, abbiamo già detto, abbiamo già scritto, abbiamo già fatto anche vedere in che modo creativo, faremo vedere le carte qui sopra, qui che mi copre, e basta, cosa c'è? È proprio indicando dove, ah ok, e basta, abbiamo sempre il nostro Bolas, abbiamo detto che è molto kawaii, esatto, soprattutto in questa edizione è adatta, Quando lo fa dice no, 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 io non sono cattivo, io non sono cattivo, no, basta, ok E soprattutto dice se si sente bene perché ci sono un po' combussolate le impostazioni del microfono No, lì è giusto, già nel senso, lì non si è mai mosso tanto, però... Ok, vogliamo solo sapere se ci si sente Ci si sente Non c'è l'audio Perfetto, ecco Ecco, ho visto Te l'ho detto che c'era un problema Allora, è che non vedo uno gatto Vieni un po' più in qua Non c'è l'audio Sorry ero io Ah, ma fangule Ci siamo già preoccupati Ok Allora, togliamo un attimo Bolas Da Bolas E lo mettiamo vicino a Bolas Come sei... Come hanno capito tutti Eh no, è il Bolas che mettiamo vicino a Bolas E questi qua li metto qua sotto Allora, spostiamo un attimo il microfono anche Così c'è un po' di audio Sì, abbiamo più cavi del normale Perché... Siamo organizzati sui Esatto, perché dalla finestra esce la luce divina E non si vedrebbe niente Sperì Vediamo se i vostri sono baggati come... Ma baggati bene o baggati male? Ha trovato sei mitiche bots Come è andato il draft? Abbastanza bene, eravamo solo in cinque Ho fatto verde e blu Cioè, tanto verde e poco blu Cattiva ciò Dove è? Di farle a te Sai che attentesce sempre per terra? No, no, no Possiamo fare anche il video Stavolta Cos'è? Il video che stavolta va fatto Che video? Io che faccio l'idiota Sì, è arrivato qua Vabbè, è Twitch che mi dice E io io... Guarda che sei in live Ah, non me ne ero ancora Ciao Sidonia Un, due, tre No, facevano schifissimo le buste Tutte Un, due, tre Un, due, tre Un, due, tre Un, due, tre Quello mettiamo via E poi iniziamo Aloha, Michael Aloha, aloha, aloha Ieri eri eri a Gardalandio Facciamo subito Ma sfide Allora Vediamo qualcosa Non dilunghiamoci troppo Intanto Le cose interessanti Le facciamo vedere Intanto Parliamo Esatto E... Aspetta Dove mettiamo le tene Cosa facciamo? Eh, mettile lì Metto qua Sì, sì Le bianche non sono ruffi Che bello Anche te hai trovato il lupo Tra le mie carte preferite Nere Come art C'è questa Ma proprio perché È stupenda C'è poco da fare Il muro Mettilo più in alto Poi, bollas Cioè, insomma Che i bollas ci indichi Dove dobbiamo mettere la carta Ma no Pensavo tolgo bollas piccolo No Voglio mettere la sulla pancia Di bollassone Ah, ok Sulla pancia di bollassone Va bollassino Tanto che Mi busto è una merda Vediamo Se partiamo Così Sovrano del branco Vabbè, io ero mio Ero effettivamente Una merda Con la pedina gatto Anche quindi Ho trovato il primo Sovrano del branco Beh, vi faccio vedere L'altra qua Che è la campionessa D'ingegno Che non è Non è così Ingegnosa Non è così tanto Bella Mettiamo le rare Da una parte Come al solito Ero una gattara Quindi ci sta Che cosa Eh, io sono una gattara Beh, quello lì è forte Quindi no Ci sta che io trovi dei gatti Ero sta effettivamente Buttando per terra Sì, dopo sono Ma sei In male Non so Ma l'ho detto Ah Quindi possiamo Aspetta Sì, sì Vi vediamo meglio Allora Speriamo di no In realtà Questa volta Spero di sbustare La mitica nera Una mitica nera Che è nell'altro Quale? Era azotec Ah, ok Era della rovina Eh, quello è la mitica male E quindi Spostiamo il gatto Mica mala Brattina Io ho trovato Un fatto imminente Pensiamo che butto il filino Ottimo Per il nuovo comando Ma è forte anche Secondo me In standard Io ho trovato questa carta Che a me fa schifo Ma al monte piace Se si mette a fuoco Ecco A me non piace per nulla Sì, sì Nel caso Mi hanno già informato Penso per razoteca Dove sono le razze? È là Vicino ai gatti Ah, ok E poi ho trovato Anche una foil Che è un abominio Manalito Beh, la metto Tra gli app e fatti Ecco Bella foil Questa qua Sì Bella, bella Cioè, schifo la carta Però bella Sì, sì Però foil Sta bene Almeno sta bene Se dici, insomma Sono carte schifose Che però almeno No Neib Prima mitica è andata La mitica La mitica è andata Una Cosa parliamo? Del gatto Beh, il gatto è bellissimo Faru fa un po' schifino Ah, è fatto Ti te ne sei accorto allora Lo elogiavi così tanto Sconfitta di Jayce e sconfitta di Liliana Vengono sconfitti E poi ho trovato La mit eterno Beh no, la mit non è male Quello è fuori Questo fu molto fuori L'avevamo trovato anche Promo Sì E foil C'è suo promo Che foil Rituale di Razotech Dai, oltre al rituale Mi dà anche Razotech Ma no Il dio scorpione Esatto E un Un'altra foil Magari Far vedere Lo scorpione Quindi siamo già Portati due mitiche Dio scorpionzo Con Neve Il dio scorpione Beh insomma Il scorpione divino Non è male Insomma Almeno l'abbiamo trovato Proprio Pupù Oh buona questa La disotteratrice Che è il crogiolo Di mondi Quella ci piace Sucratura Mi sa che è una rara E strappare il senno Che non credo sia Quella che fa macinare Incantagiocatore Più vicino Più vicino Deve coprirci tutti e due Perché altrimenti Ci mette a fuoco Perché non guardiamo La telecamera Vabbè Fa lo stesso Fa lo stesso Non merita Così tanto Che credo Che riconosca i volti E metta automaticamente A fuoco Su quel video Quindi se mi mette A fuoco Comunque Oh Cosa Se mi mette così Non è più un volco Decente Non lo so Non so su cosa si basi Cosa sugli occhi La 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 Sono un po' di ordinate oggi Scevano le carte Si E comunque Io riservo Ho fatto draft Questa carta Questa è la carta Che odio Per un Perché Ora ve la faccio vedere Là Non è una rara Non vale Ma questa carta La odio Perché io Mi ha spezzato il cuore Le rovine di Ramunap L'art Sembra il fulmine E mi ha spezzato il cuore Perché io speravo Oh guarda che c'è Ho trovato un altro Gatto Gatto E rifiutare Collaborare Non so se Carino Senza doppia Enigma Mi serve L'anatema blu Non ho trovato nessuno È l'anatema blu È quello Che fa macinare Che ho trovato prima Ah ok Beh allora Voilà Tribale gatti Già montato Praticamente Praticamente Sì Doveva trovare Quello con doppio attacco In 4x E siamo posto Un bel tribale Rattolo Posso fare Secondo me C'è solo quello Ah peccato No forse c'è qualcosa In Innistrad Ma esce Eh dio La custa E anche la terra Fullard Foil La palude Che finirò Trovo tutto io Quindi abbiamo Due dei E un neve Tutto col rosso Tra l'altro Invece ho trovato questa Beh ricordi Anche l'altra volta Abbiamo trovato tutto col rosso Però faceva schifo Esatto Ma almeno questo va Siamo già 3 per di di all'oposto O 2 per di 3 per di di all'oposto Speriamo Non Trovi un suo utilizzo La mia rara Lasciamo là E ho anche un Kenra Rissuso foil So che siete invidiosi Guarda com'è Rissoso Tutto foiloso Putridonte Barcolla Putridonte Quello di trovare foil Sarebbe bellissimo Sei il mio putridonte Può dire come sei la mia puzzola Però in modo molto peggio Sei il mio putridonte Vabbè dai Dono del dio faraone Non posso sempre pensare Che vada bene Ma a me che va bene Se va bene Dono del dio faraone Vicino al signor dio faraone Oh mia questa qua Guarda che bello Io trovo solo della cacca Cosa hai trovato? Un Kenra Coriaceo Ma guarda che bella foil Che ha modico costo C'è il sangue qua Ah che bella Quello si Lo dio costo 2 Quando entra Può fare prendere più x più C'è una struttura dove x E' la sua torta E' l'eterno Calmodico costo di 6 E' il difetto Che ho trovato Sull'eternare Sul rendersi eterni E che costa tanto Ma secondo me Più fa E comunque Perché anche in balsamare Costava più o meno uguale Solo che ti tornava come coppia E' l'eternare almeno Ti torna come 4-4 Si E' ultima sentenza di Bantu Giusto perché Ci mancava Hai fatto cilecca una volta Tipo Beh in realtà Il dono del faraone In alcuni formati Male non fa Cioè non è neanche così male Ho trovato una volontà suprema Sempre cose doppie E un'altra foil Che tipo Io potrei anche utilizzarlo Questo Ho trovato Forza Della disperazione Che non è male E' anche giocabile Secondo me Abbastanza forte Costano due Tutte e due le parti Con una Il giocatore non travolgere E quando fa danno a combattimento Un giocatore Tu pischi una carta E con l'altra Tutte e due le parti Non minacciare E quando fanno danno a combattimento Un giocatore E quel giocatore Scarpa una carta Concordo Con il fatto che Strapagare Eternare Non piace Cioè E' troppo Ma secondo me Ma secondo me ci sta Con il semplice fatto Che una carta con l'internare Come se fosse due card Quindi ti aiuta Questo qua Foil L'ho trovato Specchio dei miraggi Che questo ci piace Quello è forte Questo è forte Ci piace E dopo devo fare tutte le foto Dei manaliti E mandarle a Ryan Sì ho quello foil Hai un grande monolita Con tutti i monoliti Manalito Manalito Sì ma Eh lo so Però Facevo una stone age Di manaliti I giochi di parole Sagaci Così è tenare buono Se si usa l'incantesimo Che mette una copia Della pedina Quando la si fa Ma in realtà Secondo me Eternare È più forte Di imbalsamare A prescindere E E dipende dalla creatura Semplicemente Che effetto ha Tipo Perché comunque Un rubasogni Ci sta Che sia Questo è un fico L'eterno spietato Questo mi piace Le rubasogni Ci sta Che costi 5 6 Anche lui Mi sembra Per eternare Perché comunque Fa un effetto forte La prima Il demone Dell'apocalisse La prima rara Che non mi convince Tantissimo Perché Il cartel In cimitero Può essere Fortissimo Come fare Particolarmente Schifo Io ho trovato La più forte Di tutto il set Le sabbie Sconfinate Che ti permettono Di esiliare Le tue creature E poi Se lo sacrifici Li metti sul campo Tutte le creature Che hai esiliato Con lui L'artefatto Che ti fa costare Meno Eternare Ah si Gli strumenti Dell'imbalsamazione Che fanno Costare di meno Le attività Le abilità Attivate Nel cimitero Cos'hai? Eh L'hippopata Mercuriat Ah ok Ecco Vabbè Beh quello Non è brutto Dumbo Sì Il vacuo Tornando agli artefatti Che si è tutto Di spospetti E' una piani Della speranza Muro mazzo Troppo forte Cosa fai lì? Ho detto Il box addosso Eh niente Lascialo lì Sulla costia Io ho trovato Un angelo Della condanna Che è Almeno in Limite De molto forte Allora Tolgo queste rare Perché devo far vedere I veri campioni Di 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 In standard Che sono Loro due Questi sono I veri campioni Di Hour of Devastation Cioè Guardate che belli E' bello quel golem Perché Lo fai costare Zero facilmente E ha trovato La creatura La spinge Sovrano Delle crio Spingi Un'altra Ci sta Togliamo I nostri amici Cammelli E per Un'altra Mitica Lamentati E' bello E' bello Nello standard Può diventare E beh Prima c'era il mazzo New perspective Che aveva una sola chiusura Con questi qua Può avere anche un'altra chiusura Penso Non so Non so sinceramente Se sia più forte In standard Guardo in altri formati Solennità Che è carina E ho trovato Brothers Più vicino Ma il braccio E' corto Solennità Che è carino 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 Non chiamarla così Non si Mhm Conchリ Huuu Laa Laa La Linen La 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 Turun Tarara Mi hanno dovuto proprio mettere questo sotto, dove passa il cavo. Rubassogni. Beh, non è così male. Non è bruttissimo. Non è terrificante. Un altro pen curiaceo, che bello. Mi nascondo. Beh beh, avete capito. È importante perché siete bravissimi e capito subito. Sì, sì. Quanto è bella questa espansione da draftare. Secondo me è più bella. Sì, anche secondo me è più equilibrata. Soprattutto, cioè nel senso, non esiste un colore che non devi draftare. Essenzialmente. Come invece era un po' prima, tipo in Kaladesh. Tipo in Kaladesh non dovevi draftare il blu, a meno che non avessi... Vabbè, vabbè dai dai. L'Hydra di Ramunath. Un laderno degli Archetti. L'Hydra... La signora Hydra non è male. Amica Hydra. È molto... È un po' meno spinta. Che per questo? Anzi da tutto il bianco nero zombie. Ok. Ma secondo me era molto più forte con solo Amoncat bianco nero zombie. Qua non è fortissimo. Anzi. C'è un nuovo zombie. Penso sia uno degli archetipi che sia passato da uno dei più forti a uno dei meno forti. Da come ho... Dai draft che ho fatto adesso e dai sealed il verde mi sembra il colore più forte. Perché ha un po' di tutto e ha i vagoni. Sia vagoni che rimozioni forti. Poi... Poi dipende da cosa... Da come cosa lo combini. Sicuramente il col rosso è particolarmente forte. Però anche col blu non scherza. Tipo ieri ho vinto il draft ho fatto verde e blu. Ok vabbè è un sarcofago abbandonato. Eh quello non è brutto. Sia tutto l'era dell'eternità. Il verde hai burm. Esatto. Il verde hai burm. Io ho l'era dell'eternità. Ma sei molto lento. Io ho finito le mie burm. Eh eh. Come fare? Aprirò le tue. No. Le apro io. Mi trovi le gamitiche. Metterò un po' a posto sul tavolo. Ok. Bellissimo. E' popa. E' popa. Gero. Gero. Non l'avevamo ancora trovata. Il nostro amico Gero. Quindi. Ecco ho trovato il fratello dello sciacallo di prima. Lo scuoti terra. Mitiche quann. Arpetta. Nel sile qualcuno l'ha montato lo zambio e è arrivato più alto. Poi se ne ha soppertelo con più pezzi belli. Io ho trovato sto coso. Allora. Mitiche erano... Quattro? Tre. Quattro. Neve. I due dei e la spinge. Ah si. Me l'ho dimenticato un dio. Ok. Il nero ha tante emozioni, come è giusto che sia. Sì. Per fortuna. Anche a rarità comune. Però di pezzi forti ha un po' di rare e poca roba. Il verde ha cose forti in tutte le rarità che conta tantissimo in draft. Anche perché quando cominciano a passarti delle common. Esatto. Cioè, devono essere forti anche quelle. Il nero ovviamente è forte. È quasi... Sì. È quasi sempre forte in draft. Perché nel nero di solito ci mettono le rimozioni anche comuni. E quindi... Per forza di cose. Era della rivelazione. Mettiala. 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 Ah ok. Una bella pratta. Mi è sostanzialo che stampasse qualche pv in più. Ma no, di solito l'espansione piccola ne ha sempre solo due. Non... Perché almeno... Di solito le dividono per numero di carte. Se sono grandi o sono piccole. Questa essendo la seconda del blocco è piccola e... Ci hanno sempre messo soltanto due. Brainswalker. Ma dove erano le due blu che erano qua? Le hai tolte? Ma non lo so. Non lo so. Ma me le hai tolte tu? No. Le avrei messe appena. Non le ho toccate. O le ho messe sopra lì. Erano divise per un motivo? Ma dopo le cerchiamo. Olè. Olè. Vai. Vai di diritto. E si che vai di diritto. Eccolo qua. Avevamo detto mancava il pv. E Nicol Bolas. Il signor Bolas. Bolas vale due. No, l'ho perso. Gli effetti si sanno del... Oh, ho trovato però la pedina a cavallo. Oh. Ah, eccolo qua. E Nicol Bolas. Gli effetti no, non si sanno. Si sa solo che la ulti crea due copie di Jace. Plainswalker. Ah, ok. Come siamo arrivati a passare a Jace? Alla domanda. Ok. Che bello. Dove? Fammi prendere l'ultimo. Bene. Meno merito. Sono un proprio bambino. Praticamente ho finito il coffe. Oh, questa è buona. Ho dato all'ustruzionista. E nell'ultima costa di questo. Perché fa stifle quando la cicli da un 3-1 lampo a volare, ha costo 3. 2 copie di se stesso. Un altro istruzionista foil. Figata. E... Disgregare polvere. Istruzionista foil, fico. Istruzionista foil. Speri luccica. Sì, fa due copie di se stesso. No, non si sa quanto costerà. Cioè, né di soldi né di mana. Perché non si legge. Non si legge proprio niente. Si legge, si sa solo che si chiama tipo Jace Planner Outcast. Ciao Montre, ho visto i tuoi e adesso guardo le foto che mi hai inviato. Cos'è? Dai box di ieri, erano niente di particolare. Ma porca vacca, ma anche tu però non scherzi. Sì. E sì, quel demone foil sarà tutto mio, se vorrai. Proprio così. Sì. Poi dobbiamo dividere. Quindi prima box 5 mitiche, ma hanno alzato le mitiche per box. Può darsi. Allora adesso... È la media di 4 era. O 3 o 4, non ricordo. Allora una. Io intanto divido queste, ma che le mettiamo nel... Le rimettiamo dentro il box, direi. Un dio, manca l'altro dio. E Neib. Quindi le mitiche stavolta sono Bolas. Neib. Eh, non me lo ricordo la media che avevano, che dicevano. Criospinge, lo scorpione divino e una locusta divina. Queste sono le mitiche del primo box. Eh, io sto mettendo a posto queste. E' rosso, verde. E qui c'è. Articolor. Ecco il box. Le mettiamo tutto dentro. Apriamo il secondo. Le rare le teniamo fuori. Sì, sì. Le mettiamo nella lue. E tengo fuori la palude poi, perché è troppo bello. Dividiamo anche le lande full art. Visto che ci siamo. O lo facciamo dopo. O lo facciamo dopo e teniamo fuori tutto. Tieni qua le ripedine lande. Tieni. Issa. Aspetta. No, era giusto. Non lo so. Non so cosa volevi fare, quindi... Allora, visto che è bella, la metto intanto qua. Lo fa l'ude. Poi è là. Ok. Secondo, intanto... Ciglio qua, ciglio qua. Ok. Questo è andato discretamente, direi. Io direi anche bene, insomma. Le mie che non facevano schifo. Non so bene la Frio Spin, cioè dove... Per commander spinge. Per commander spinge. Come... A pagare due di meno le spingi è fattiglia la cosa. Si, si. Insomma. Però non so se ci sono abbastanza spinge. Si, secondo me si. Per mono blu soprattutto. Però sarebbe più forte tipo blu rosso. Blu rosso. Oppure esper. Ah quello sì. Quello sicuro. Quello sicuro. No. Malva... E mi senti... Malva... Malva... Era delle omiche nel titone. Si. Era una puntata con il... Un nipote di zia Marilu. Adesso... Te li stampano. Le spingi. Per commander. Ah esatto. Allora, vediamo la prima busta. Speriamo... Speriamo... Perché qua ho... I cavi sulle gambe. Eh si, questa posizione purtroppo... Infatti... Riballa tutto. Malito. Aspetta, cerchiamo di evitare di metterlo sopra i cavi. Sto spostando tutto un pochino più in qua. Ok. Ok, basta. Questa fa già... Effettivamente la fa schifo perché ho le sabbie sconfinate. Così ti spoileri tutto subito. Si. E la rinuncia di Gerufoil. Di Geru. 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 Allora, questa è la super rara. Guardatela, ammiratela. Eh beh. Allora io ho trovato mitica. Quale? E' brava il serraglio. Ah beh. Che è il tutore tutoroso. Il tutore tutoroso. Il tutore tutoroso. Questo ci piace. Dove sono le... Base? Qua. Le donze. In là. Siamo. In là. Uhuh. Ecco ci sono le... Cosa? Ci sono le rara. Ok. Tu farai la galottina. Come siamo? Non so neanche cosa. Cosa succede? Dove ne abbiamo messo lì. Ma questo me lo hai dimmiato. Hai ragione. Ha. Comunque come al solito appena è uscita adesso era della rovina voglio, voglio giocare con Xalan, perché è un circolo vizioso, questa cosa, vabbè, un Kerr a scuoti terra, l'ho visto prima, questo però non è rara, quindi lo mettiamo qua, ma ti ho fatto una locusta delle locuste, ah, che carino, insomma, un po' schifo, questa è una rara e queste sono da pelino, ah, guarda, c'è la pubblicità di Xalan, dove? Era dietro l'ultima che hai fatto, ah, ok, questa è la pubblicità di Xalan, è Xalan, basta, con Vrasca, quando cominciano gli spoiler di Commander, dovrebbero iniziare tipo il 12 o il 13 di agosto, troppo tardi, esatto, comunque troppo tardi, a meno che non facciamo uscire qualcosa ufficialmente prima, ufficialmente uscirà qualcosa quando siamo a Londra e ci mancano i supporti, beh, il computatore lo prendo su, sai che ti usa, è la tua borsa, ricordatelo, cosa? È la tua borsa, il computer, è il bagaglio e poi il bagaglio. Eh, vedo. Era della gloria, vabbè. Aspetta, mi so che... Abbiamo fatto un errore. Sì. L'era della gloria, non ve la faccio vedere perché poi vi emozionate, perché è una carta troppo forte. Io ho trovato un'altra gratta. Un'arte meravigliosa, invece la gratta ci piace, ci piace, ci piace, ci piace. La carta di Bontu ci piace e abbiamo visto che ha fatto anche i suoi danni. È l'unica cosa ordinata di tutto ciò. Il colore è un pochino meno ordinato. Ultima parola di Ketnet. Wow! Ho trovato una palude, è la stessa palude foil. Eh dai! Anche questa è tutta color rosso. E poi ho trovato un eterno dell'incendio indomabile. Vediamo un po'. Che ha i pezzi di faffa, ha i pezzi di faffa. Ecco, mi sono dimenticato di farci dare le promo del Bio Box, che tra l'altro sono proprio lui. Sì, questo non è male. Vabbè. Caruccia. Questa cosa è tutta il tempo, quindi va di qua. Questo è iniziato un po' meno esaltante. Speriamo di riprenderci presto. Ultima resistenza di Ronas. Non è proprio quello che stavo aspettando, dicendo che bisogna riprenderci presto. Un pochino che noto una torre di babele. No, è una torre di terre. Una torre di terre. Beh dai, vi è piaciuta l'ultima Magic Story? Perché ho sentito tanta gente che l'ha trovata inutile e noiosa. Invece io ho pianto come una bambina. Con i lucciconi. Insomma. Troppo che un'intostruzionista. Ce l'abbiamo già in tre pere. Però non l'ho messo a fuoco. Ora l'ho messo a fuoco. Era dell'eternità. Ho già visto. Ora lo mettiamo, visto che questo dio non ci è ancora apparso. Magari. Mega high per il nuovo comando. Ok. Montage insomma. Eh, più che altro perché secondo me è carino dare un po' di spessore anche ai personaggi secondari e soprattutto far capire la Aya, quella per esempio non è. No, chiudo. No. E far capire anche comunque la situazione in cui gli abitanti vivono. perché non è che tutto a Monchetta adesso è abitato solo dai guardiani che insomma si meritano un po' perché non hanno sgotato a Gianni, quindi si meritano tutto questo. Quindi a me è piaciuto per quello. Io ho trovato un'altra doppia. Abbandonare al caso. E metto qua. Facciamo anche le terre pedine dalla mia parte della stessa parte. Ah, con l'operino. Gatto doppio attacco. Gatto doppio attacco. Nuovo tizio su Ixan. Non c'è un nuovo tizio. Non so la storia del nuovo tizio su Ixan. Chi è il nuovo tizio su Ixan? Cioè c'è una donna, è una Gorgone ed è Vrasca. Dici, è quella che abbiamo fatto vedere prima? Perché è donna. Perché quello è un personaggio già noto. Allora, aspetta. Era dietro la pedina locusta. La vedo. Ecco qua. Allora, stai parlando di... Mi immagino... Lei. Perché lei è Vrasca de Ansin. Vrasca è una Gorgone di Ravnica, o almeno vive su Ravnica e tra le Bolgare. E diciamo che ha avuto dei trascorsi, nel senso che si sono incontrati e scontrati e non molto apprezzati, con Jace, per quando lui occupa il ruolo del patto delle gilde. Nel frattempo ho trovato l'Ira della Promessa, mentre l'abbiamo a Vrasca, perché ha promesso di farsi vedere. Altri nuovi tizi, non lo so, io ho intravisto un'art ieri diversa, ma non so, che aveva postata su Tolarian Community College, c'era... Che art? Era il preview, ma non si capiva molto di più, non era una persona, ma c'era più che altro, sembrava, non so, una landa o... Solennità. E abbandonare al caos. Al caso. Al caso? Beh. Dai, qualcosa di fico. Sì, ancora non è città, è città un'artica sola. Eh, lo speriamo che le Invocation... Le Invocation ci sono o no? Lo speriamo, lo speriamo. Sei fatto. Guarda lì. O in tele su Xalant se ci sono Invocation. Su Xalant no. Non ci sono. Le hanno... Si sono resi conto che forse ne hanno fatte troppe, tutte insieme. E quindi... Dai, una delle Apocalisse. E... Scarabello di vino. Eccolo qua. Eccolo qua. Seconda mitica del box. Wow. Non l'hai messo bene. Cosa fa wow? Questo wow. Ah, ok. E quindi adesso abbiamo trovato tutti... Almeno in uno per tutti gli ebay. Questo è un bene. Siamo abbastanza contenti da un lato che non ci siano le Invocation, o in questo caso potevano chiamare, non lo so, Tesori o cose così. L'ultima misericordia di Occhetta. Secondo me pensavo che le Invocation mi hanno messo una tiratura troppo limitata. No, semplicemente si sono accorti che stavano già finendo le idee. Cioè, già finendo le idee su che Masterpiece fare. E quindi hanno detto, magari li facciamo quando servono davvero. Perché comunque... Cioè, quando ci stanno davvero con la storia. Perché secondo me in Ammonket non ci stavano più di tanto. Infatti si è visto. Fausti del caos. Pico, mi piace, la fausti del caos. Ok, si è messo qua. È bella lì, bella l'alto. Perché effettivamente le Invocation hanno aiutato sia a vendere, sia ad abbassare i prezzi dello standard, delle carte dello standard. Quindi semplicemente, ma l'hanno detto anche loro, ci siamo accorti che fare 55 ristampe per ogni espansione, che dovrebbero essere uniche, tra virgolette, già con Ammonket si è visto che stavano finendo le idee. Cioè, non c'era un filo logico ben preciso come è stato per Zendika, come è stato per Kalade. Sì, invece tipo su Dominaria, cioè, lì potrebbero sicuramente farle. perché ci sono un sacco di, cioè, ci sono un sacco di carte che possono essere ristampate in quel contesto, dato magari vecchie, magari non tutte forti, però iconiche. Quindi, sì. Ho trovato neanche una in tre espansioni che ho giocato. Beh, molte adesso costano anche comunque poco, se uno dice, ci tengo tanto a averne una in particolare, soprattutto quelle di Ammonket, che costano poco. Anche quelle di Kalade. Ho trovato un altro crogiolo vivente. Oh mio Dio. Ah, anche te? Anche te. Anche me. Anche te è successo. Allora, la piaga della granne del fuoco sia normale che poi nella stessa busta. Quella è... Questa carta è bellissima. È una di quelle carte che però, in un certo livello, in un certo contesto, che è il commander, ovviamente. Il prossimo commander... Pentamuri. Pentamuri. Ho trovato Dumbo. Perché è Dumbo, poi? Guardalo. Ma dai, ma è la... Ha l'orecchione. E dite che non ha l'orecchione. Se viene da fuoco. Ecco. Dai, palesemente Dumbo, guardalo, anche più in grande. È Dumbo. Vabbè, io ho trovato a ragionare e credere. Secondo me è meglio l'incantesimo che fa lo stesso effetto ogni turno. Eh, ma quello lì lo puoi fare più volte nello stesso momento. E per quello è più forte. Perché ogni turno... E come va tutto lo fa ogni avversario. Più che altro è perché una volta a turno è forte perché ovviamente... Si sia forte in uno... Nel senso, in uno di uno. Da fastidio. Esatto, con quelle balle. Però, cioè, in multiplayer, se hai tanto mana in late, fa disastri. Perché comunque lo fa tutte quelle volte, ma in un turno solo. Pu-pu-pa. Pu-pu-pa. Wow, wow. Il territorio degli sciacalli. No, non ti merito. Non ti merito. Non mi merita neanche il passaggio. Mi riarca maestoso. Almeno una mitica. Eh, questo non è bruttino, dai. Alla fine è grozzo. Ne ho trovato uno anche per Elise. Quindi è la terza mitica quella. E poi ho trovato una veggente dell'ultimo domani. Molto figlio con le iscrizioni dietro che si subrucicano tutte. Misericordia di Occhietra. Ultima misericordia di Occhietra. Che, insomma... Pollo. Non è così male. Ha detto, hanno scritto pollo. Pollo. È un grosso pollo, sì. È una scomita di Gideon Foil. Bela. Sì, però, insomma... Questo... Questo box mi ha un po' deluso. È un po' deluso. Sì. E allora riesco a aprirti il bustino e mi stai dicendo, c'è, è un po' di croce. No, però. Non vuoi uscire, ti vergogni. Ho trovato un altro angelo. Allora, qua. Dai che trovi una cosa bella. Speriamo. Deve essere proprio bella. Mmm, bella. Beh. Una imperitura di Adore. Se così poi tolgo. Avete fatto lo speedmail rosso non comune? Sì. Sì. Dovemmo averlo. Sì, questo qua. Torno. Eh, ho il polso non slogabile. Solo uno. Per ora. Non so nell'altro box. Perché? Perché non abbiamo guardato. No, tanto non lo abbiamo scontato. Ti ho ucciso? Allora, vediamo l'ultima mia busta. Che carina è la cripta degli Eterni. Ti do la cripta degli Eldrazi. Ed eccolo qua. Ah, ho visto l'hai chiamato. E' da prima che l'ho chiamato. E' ecco il mio Razatek. Che a guardarlo, cioè insomma, sembra un po' tanto più forte rispetto a quello che effettivamente si è rivelato nella storia. Esatto. La cercano per modem. Sì, 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 lo so già. Già lo so. Ecco, ne ho trovato un'altra. L'abbiamo chiamata. E un altro miccio con doppio attacco. E' l'ultima busta. Allora, ciao, buone. C'è questa cosa che... Razatek. Aspetta che... Che fine orribile che hai fatto. Che cosa? Razatek, che fine orribile che hai fatto. Eh, poverino. Quei è Razakhet. Sì. Ma io gli cambio sempre il nome. Razakhet, Razakhet. Non pioggono. Sti cavi. No, sti peggio per i cavi. Che danno fastidissimissimissimo. Sarcofago abbandonato. E perché è sempre l'ultima? La rara foil che a parte fa schifo. Un sarcofago abbandonato è un Chara Coriaceo foil. Torniamo a bustare. Chara Coriaceo Fogil. Quindi quante mitiche sto qua? Allora. Sa quattro. Sto giro. Una. Due. Tre. Qui diritto. E... Un tre. Quattro. solo 4 e allora rimettiamo tutto a posto e poi abbiamo l'ultimo sperando nell'invocation dato che allora questo così questo colà così e colà e questo va tutto sotto così e così e quello qua ok quindi la scatola povero zero quindi sotto sopra per terra sotto sopra tutto sopra lo vedo ok ok e adesso l'ultimo adesso ciao c'è Montre c'è Montre vai via si ha detto di mandargli le foto dopo brutto questo doveva che lo rilascio eh no quello era di osperto e quindi? dammi metti questo sopra ok ok facciamo una discarica abusiva qua dietro poi con le due camere vi possiamo vedere cosa sta succedendo i pani e le magic ciò che ho fatto io ma puoi metterle addosso a me ma è bello no si molto qui c'è cammello 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 99 scimmie saltavano sul letto ma c'è da terra e si ruppe il cervelletto ultima misericordia ok saremo ricchi a me basta trovare il cammello e sono contento non so stavo ne ho fatti due se preferisco il cammello zombie o il cammello morto vivo e il cammello morto perché non so sono belli tutte e due per motivi diversi si i Monticolo non ce ne sono si eccola ho trovato ancora questa è un'intelligenza dello sciame che era dopo di questa persona fu in pericura di Azoret e una sconfitta di Chandra Foil ma non credo che nessuno le sconfitte sono bellissime carte da size esatto però chiaramente non esiste la sconfitta di Bolas quindi mi sa che Bolas non viene sconfitto anche a me perché poi nella prossima edizione ci sarà la disapprovazione di Agiani lo sappiamo il gatto solito gatto era della gloria solito brothers ma al senso vado all'ultima ma perché? era dell'eternità foie visto? bello e la rara è vomit abominio scolpito foil le sabbie sconfinate come rara preferisco la foil ne abbiamo già trovato un altro quello di quello si ma insomma le sabbie è troppo forte wow fatto imminente ma che dopo cambia tutte le carte del mono nero le tre terre base in pool art secondo me ne abbiamo abbastanza si può essere così coccolo il mio comando vabbè dai facciamo anche io beh Kendra scuoti terra non mi piace cioè nel senso non mi dice piaga della grandina del fuoco noi siamo già tipo a 4 4 si guarda se ho posato penso comunque voglio i command voglio ixalan voglio il gioco da tavolo di ixalan che deve uscire voglio unstable 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 subito troppo bello però quando unstable tipo ne sbustiamo solo uno di boxing live e gli altri si idratta a bomba perché non ha senso altrimenti splendore schiacciante la prima mitica che era una mitica che non volevo trovare guardatelo quanto è splendido quanto è schiacciante quanto è splendido quanto è schiacciante hai fatto cadere tutto ma allora è so schiacciante ma hai fatto cadere tutto eh ci raccolgo ho ragione di credere la doppia blu verde eh draft live sarebbe fico eh sarebbe una figata sì l'esercito 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 come foil e solennità come l'ara come l'esercito e se si riesce si riesce a organizzarsi entro dicembre magari riusciamo anche a no 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 magari ad ottenere delle attrezzature beh puoi regalarmele per il compleanno ma no ti regalo il box in staple anche territorio degli sciacalli niente demone dell'apocalisse ma questo qua più schifo di quello di prima il primo è stato wow il secondo mmm e questo no vabbè adesso facciamo quello di inizio dai tutto sommato può andare peggio sì se non trovo l'ultima misericordia di occhietà ancora beh l'ultima parola di capnet è una parola del foil che è sempre la stessa capnet 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 per favore per favore non crescere più che eh no è morto mi spezzare mi spezzare mi spezzare il cuore mi spezzare il cuore oh specchio vabbè non è specchio 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 delle mie brame chi è il più faraone del reame sei tu liberare il serraglio beh dai una mitica una mitica siamo a due e bolas non può fare sempre quel che vuoi grandissima adorabile dragone bolas non ti aggiornare più a distruggere il piano prima di cena un po' forzata mi è sembrata no no era è scivolata benissimo no 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 bolas non si fa no no bolas non si fa no no bolas non si fa dissuolteratrice di ramo no non si fa l'ultima resistenza di ronas oh oh bolas non si fa non si fa che è che contro le balle dove sono dove sei no presto presto per dirci siete in ritardo esatto quante fanno? cosa sai? niente ah ok ecco qui ai come è che si spostano da sole le carte si emozionano che vogliono che vogliono allontanarsi e il e Dumbo Dumbo era dell'eternità via basta 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 una rara bella qualcosa di di bello che poi annoiamo e la gente smette di vederci e comunque dopo andiamo al bar di un nostro amico a fare un altro pre un siled in realtà quindi faremo saremo attorniati da sangria e paella pieni alticci a fare il siled pollo pollo ah pollo lì quindi siamo a porta tre ho trovato la frattina o questa cosa di sprecare e questo va qua e sarà bellissimo che poi sono molto arrabbiata con te perché mi hai fatto comunque tirare fuori la macchina che cosa ah perché li porto qua so vedevo prendere la mia macchina e vabbè non facevo quanti indietro io e l'angelo angelo angelo ma si può che può bere più sangria beh ma ora che torniamo se la bevo anch'io sangria eterno dell'incendio indomabile che abbiamo già visto allora era della promessa foil intanto non è male e poi dono degli aperoli vabbè però abbiamo trovato delle rare foil insomma un po' di rare foil iniziano a essere poche le buste si mi sa anche che questo fa schifo schifo idra di roundup e cavallo la cavalla quindi è la quarta mitica beh è un po' una per colore che abbiamo trovato di pare il serraglio la un'anatema la cavalla e il pollo quindi abbiamo trovato metto sul verde bianco la cavalla se riesci a farla funzionare ha tutto perché quella cavalla lì non è la stessa più non è la stessa più non è la stessa più cosa? che bello la penura foim e un altro gatto micio un micio sempre cambiettina dai stiamo cadendo nel trash costruzionista che non è male allora l'ultime quattro l'ultima dal mio atto blu terra questa tua ammite eterno buono sarcafago abbandonato me la mente eterno va bene un razziatore squadra ossa foim chi ha rubato una busta chi ha rubato una busta no si no l'ho fatta no aperta cattiva si è rotta tantissimo ultime due buste vediamo quale qua c'è l'invocation la vedo la vede vedo il bordo dorato vedo anche che è blu però non c'è di blu qui c'è abbandonare il caso no mi sa che fa schifo quindi prima guardo la rara che è l'ultima sentenza di Bontu e poi cap size cap size non è un betto dammi qua sostituiamo tra tutte proprio cap size è trovata forse la più brutta invocation di sempre anche se l'abbiamo trovata e che è l'invocation comune si fa un post e che non viene giocata perché almeno days viene giocata si esatto cioè nel senso in pauper ho avventato cap size che a posto 3 con riscatto 3 fai tornare un permanente ma non al proprietario e sempre però non sempre nell'ultima busta che ci illude fino in fondo c'è illuso c'è illuso allora adesso noi mettiamo almeno c'era si dai mettiamo a posto e poi postiamo sulla si mettiamo sulla pagina tutte le sbustate quelle decenti quelle indecenti guarda che abbiamo sbustato invocation e arriva la gente eh si però fa schifo guardate guardatela vedrà che la faccio vedere anche da qua che è più grossa fa schifo uguale grande o piccola fa schifo uguale metti a fuoco è più schifo aspetta metti a fuoco e rinascondenti più a fuoco forse perché è poi già mi sa di sì riproviamo ma io direi che l'hanno già notata forse così si mette a fuoco perché è una greca delle scritte si eccola qua capsize bella figa però no è figa sempre il contorno che mi piace tantissimo anche se a molti non piace però ho proprio cap size di tutti la sbusteremo di meglio stasera stasera esatto stasera non è più rigida dice che è più rigida intanto se può fare la prova non si rovina si decisamente più rigida sembra finta decisamente più rigida sembra così plastica sì vi salutiamo e rimaniamo le nostre lacrime ah no devo farvi vedere che cosa è il casino ah è vero ecco lì fa un po' schifo come mettere in camera però questo è quello che è successo dietro è solo che non mette e guarda qui sotto la sedia questo è quello che è successo mentre lanciavano le cose ah beh c'è anche il mio culone in modo visione eeeh ok chiediamo torniamo da Bolas grazie per per averci seguito purtroppo l'invocation c'era almeno però non era proprio il top e basta adesso pubblichiamo le foto sulla pagina e ci vediamo la prossima alla prossima che è martedì non dà che quel peggio è il casino sulla scrivania ok sì è martedì se abbiamo qualcosa e troveremo qualcosa ma sì si trova sempre qualcosa da dirsi e basta ciao a tutti ciao a tutti e buon pomeriggio buona serata grazie ciao a tutti Grazie a tutti.